La prestazione non all'altezza della nostra squadra, per noi poteva essere questa giornata un'opportunità importante per scalare ancora di più posizioni di classifica. Purtroppo non ne abbiamo approfittato, devo dire che il Sassuolo ha fatto un'ottima partita qui da noi e noi non siamo stati bravi a essere squadra soprattutto perché sembravamo che non avessimo mai giocato insieme. E questa è la cosa che un pochino più mi dispiace, però possono anche essere partite che ti possono far crescere e far capire che possono capitare queste giornate qui, ma bisogna comunque essere sempre concentrati, sempre attenti e a volte imparare anche a limitare i danni.